WELLA WELLA A TUTTI RAGAZI E BENVENUTI A QUESTO MINI VIDEO SPECIALISSIMO Io sono Xyuder ma non voglio neanche bandare alle ciance ragazzi sono convinto che ci siano degli aggiornamenti importantissimi per il nuovo gioco di Supercell ragazzi Brawl Stars E voi mi dite Xyuder perché mi parli di Brawl Stars che non ne hai mai parlato? Beh ragazzi beh perché qua la novità è veramente molto molto sugosa e non sono io a dirvela ragazzi non è Xyuder a dirvela ragazzi ma come vedete ragazzi qua in alto questo è un estratto che presto andremo a vedere assieme del penultimo terzultimo video di Nikati Knight Che insieme a Molt parlavano e giocavano ovviamente a Brawl Stars Ragazzi ragazzi la domanda che tutti voi vi state ponendo me la sto ponendo anche io adesso è Quando cacchio esce questo Brawl Stars per Android ragazzi lo sapete benissimo sono mesi oramai che Brawl Stars viene giocato dagli youtuber big mondiali Ma sappiamo benissimo che solo in Canada è stato rilasciato solo per iOS è stato rilasciato Beh ragazzi beh ragazzi se voi andate a sentire dal minuto numero 12 dal minuto numero 12 del video di Nikat Knight insieme a Molt sul canale di Nikat Knight Sentite un pochettino che cosa o se potete ascoltare Adesso finisce il video Senti qua eh Senti 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 Allora ragazzi allora ragazzi qua non c'è mica tanto da scherzare Nikat Knight ha detto allora ragazzi se voi volete avere enjoy time se voi volete del divertimento se voi Possessori di un sistema Android volete del divertimento nel prossimo episodio Sarete ricompensati e Molt ha confermato ragazzi Ragazzi sembrerebbe che tra pochissimo Potrebbe uscire Brawl Stars per Android Beh ragazzi questo piccolissimo video speciale l'ho fatto per voi ragazzi È fatto col cuore anche se dovevo fare altre cose Ma ci tenevo a farlo Spero che mi sbonderete di like Giratelo Giratelo a tutti i vostri amici italiani ragazzi Che vogliono sapere di più su quando uscirà Brawl Stars E beh ragazzi per oggi è tutto Io vi ringrazio vi mando un bacio grandissimo Ciao Ciao